Ciao, benvenuti e benvenuti su questo nuovo video soprattutto, dove vedremo le ultime notizie di Jan Yaman. Dalle informazioni confermate sappiamo che è in Turchia e che anche lì i media non lo lasciano di certo tranquillo, ma a dimostrazione di questo ti mostrerò delle foto ed un video da condividere con voi proprio di Jan Yaman. Quindi rimani fino in fondo per scoprire tutto nei dettagli, ma soprattutto ricordati di iscriverti al canale cliccando sulla campanellina e metti un tuo like. Ma veniamo al vero motivo di questo video. Jan Yaman è volato dunque in Turchia, ma il suo ritorno è stato dettato dal richiamo del lavoro. Infatti sappiamo tutti del grande impegno che si è preso di iniziare a lavorare con la Disney Plus per il lancio anche della famosa piattaforma in tutto il mondo, ma soprattutto in Turchia. Ed infatti è stato anche un testimonial insieme ad altri attori turchi come Handler Sel, The Metal Zemir e Kerem Bursin, che hanno girato un promo proprio per far partire la piattaforma nel mercato turco. Ma secondo voi, un uomo che è stato lontano per così tanto tempo dalla sua casa, dalle sue radici e dai suoi affetti, veri e sinceri, appena arrivato sul suo paese natio, che cosa fa? È andato immediatamente da sua madre ad assaporare quel vero sentimento d'amore che gli mancava. Dopo tutte queste situazioni così stressanti che gli hanno fatto vivere le sue fan nella sua casa di Roma. Ricordiamo che, benché sia un attore, anche lui ha tanto bisogno dei suoi momenti di libertà e del suo silenzio intorno, i momenti classici di relax. Ha bisogno di stare con la sua famiglia per ricevere tutto quel grande sostegno che gli sarà mancato così tanto. Appena rientrato a casa, Can Jaman ha voluto subito omaggiare a sua madre, menzionandola sui suoi social e ci ha fatto vivere un momento bellissimo attraverso appunto un suo video dove lui sorvola la città per rientrare nei suoi profumi, nelle sue tradizioni, nelle sue abitudini. Ve lo lascio godere in silenzio, ma sa anche benissimo che il suo viaggio è un viaggio di lavoro, anche se lo ha riportato a casa. Lui è tornato in patria per girare la nuova serie internazionale di Disney+, dove si parla di Il Turco. Difatti la nuova serie si intitolerà proprio Il Turco. Sarà un tour ambizioso che lo porterà di nuovo a girare in Italia, visto che la trama di questo film o serie si sviluppa proprio su conquiste di questo Turco in Italia, ancora agli imperi, all'impero dell'Ottomano, legato all'impero ottomano. E le scene sembra che saranno appunto girate in Italia e che inizieranno nel mese di giugno. Quindi è questione di pochi giorni e poi finalmente scopriremo anche tutto il cast di questa nuova serie. Somma, tutta la cricca che compone il gruppo di lavoro. E ora diamo un'occhiata alla sua ultima immagine ieri sul suo account Instagram, dove, a parte questa immagine, ne ha condiviso un'altra. Come vi dicevo ha condiviso questo video che metto qui e che commentiamo un attimo, dove mostra Istanbul vista dall'alto, mentre lui la registra dice che è bello viaggiare, è bello vivere all'estero e c'è comunque niente di meglio che tornare a casa per stare con la tua famiglia. Soprattutto, questo lo dico io, come ti avevo detto, dopo aver attraversato tutto lo stress e tutto ciò che penso di cui ha bisogno per essere al fianco della sua famiglia, per ricevere tutto quel vero amore che speriamo trovi nel conforto. Diciamo che, speriamo che goda di questo nuovo amore, di questo momento di relax, per regolarizzare il suo stato emotivo che presume sia un po' fuori fase, il che è comprensibile. Eeeeh... E' vero che tutti gli attori e le attrici vorrebbero renderlo felice, ma questo non significa che sia davvero felice. Penso che poiché sono attori, sono anche esseri umani, sono esposti a ogni tipo di invadenza, che magari all'inizio può essere anche sopportabile, ma che a lungo andare arriva a distruggere lo stato emotivo di una persona, specialmente quando va a ledere i tuoi momenti in cui vorresti proprio staccare e sentirti semplicemente un umile uomo. Ora però inizieremo con le notizie di cui ti ho parlato. Demetho Zemir durante il compleanno di August Kahn ha condiviso un post, appunto, per festeggiare quel momento. A tal riguardo c'è anche un video nel mio canale. E dopo aver incontrato alcuni paparazzi che gli hanno chiesto della dichiarazione romantica che gli era stata fatta. E da lì è nata un po' la polemica che si legge un po' nella sua risposta, appunto, quando gli hanno chiesto di questa dichiarazione che era molto romantica e lei ha risposto che non sa bene se lei è romantica o no, poiché dice faccio molte commedie romantiche e ormai faccio molta fatica a capire e a sentire il romanticismo. Ieri è stata vista di Istanbul, i paparazzi le hanno chiesto di nuovo come mai dice di non essere romantica e lei ha detto di nuovo che pensa che sarebbe un po' strano se dicesse di essere romantica. Non lo fa apposta, non si considera una persona romantica, si considera una persona divertente. Ha detto che gli piace divertirsi, gli piace fare battute, ma che non si considera una persona romantica. E una cosa non ha niente a che fare con l'altra. È divertente non romantica. Non è perché romantica non può essere divertente? Diciamo che la risposta è stata alquanto confusionaria e ci ha mandato un po' tutti in tilt. A riguardo al lavoro e alle vacanze ha detto che fare una vacanza sarebbe un sogno, ma che ha un ritmo di lavoro molto pesante. Ha detto che allo stesso tempo quel ritmo la fa sentire molto felice e l'adrenalina è sempre a mille, perché lavora con ciò che ama. E ha anche pubblicato questa immagine dove si vede il luogo dove vive per suo conto e si sta rilassando e prendendo proprio un momento tutto suo. È una foto in accappatoio dove lei è distesa e si sta riposando nella sua casa. Ringrazia di cuore le persone che si prendono cura di lei e danno le notizie sul suo blog che a breve, questa è l'ultima notizia, riprenderanno le riprese della seconda parte del film Tattiche d'Amore. A luglio si dovrebbe poter vedere questa seconda parte. A proposito del suo fidanzato vi svelo un piccolo fatto che è accaduto durante una sua serata. August Kahn è stato attaccato. Gli hanno lanciato un cellulare mentre era sul palco in pieno volto. Lui stava facendo il suo lavoro e un fan, chiamiamolo così, gli ha lanciato un cellulare proprio in faccia. Il lancio di fatti è stato mirato al suo viso e lo ha centrato in pieno. Questi dati li ha dati il telegiornale turco. Il cantante ha raccolto il cellulare rivolgendosi all'uomo che l'ha lanciato dice ma che tipo di uomo sei ora? Io non ho intenzione di restituire il tuo telefono, anzi lo metterò in vendita su un sito dell'usato. Non è dato sapere però cosa abbia fatto veramente August Kahn, se ha restituito il cellulare o no, oppure se ha venduto veramente il cellulare. Non mi piace molto questa cosa perché le cose brutte non mi piacciono mai. È vero, sono qui solo per darti informazioni ma volevo condividere questo mio pensiero. Spero che ti piaccia al massimo tutto ciò che ti ho fatto vedere. Spero che mi lasci un bel like per il prossimo video continuando a seguire tutti gli avvenimenti e tutte le cose che succedono giorno per giorno. Buona giornata!